Ma nell'insieme la gente pensa che... e adesso cosa vede? Vede che c'è un classismo nelle loro misure che fa impressione, cioè qui si abbonano tutti i colletti bianchi, tutti gli evasori, eccetera, e l'abuso d'ufficio, il traffico di influenze e tutti i condoni di domini Dio, eccetera, quando invece si dà addosso alla zingara col bambino, che va in galera anche col bambino, allo studente che protesta, a un lavoratore che ferma le macchie.